Oggi andiamo a inaugurare il completamento di questa bella struttura, un esempio di sinergia che funziona tra pubblico e privato. La Stella Maris di San Benedetto un anno fa era in crisi totale, una crisi aziendale, il rischio di perdere posti di lavoro ma soprattutto il rischio di perdere un servizio molto importante per la comunità marchigiana di San Benedetto. Oggi ci troviamo a rivitalizzazione di questi spazi, una riqualificazione, un servizio che non solo riparte ma riparte con una qualità ancora più alta di come ci aveva lasciato un anno fa. Quindi una giornata importante perché si rafforza l'offerta di quel servizio dato dal privato ma in convenzione quindi per il cittadino come se fosse pubblico in una struttura che oltretutto ha dimostrato negli anni di saper fare tanta mobilità attiva e quindi portare nelle Marche persone in altre regioni che hanno bisogno di questa risposta di salute. E per i lavoratori che non lo faranno preoccupati una bella prospettiva in termini di impegno e di attività da svolgere dentro questa realtà che riparte. Per Regione Marche una buonissima notizia e speriamo che questo modello possa in maniera integrata continuare a offrire tutti i vantaggi che il privato sa dare in sinergia con quello che il pubblico offre.